...e poi questo dovremo tre giorni di lavoro, gli altri tre giorni e mezzo di navigazione, e poi c'è la stagione importante. Ho capito, ho capito, ma guarda un bordo, dai, oggi trovo a Barca, Marco, gli diceva girassero le tassi, quindi i ragazzi sono a casa, ovviamente c'era lui a casa, mi disse che oggi c'erano sette bacche, o sette o quattro bacche a power, non mi ricordo bene. Buono, 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 buona cosa va, iniziano, ora iniziano, la buono, già, il giorno 20, il giorno 20 in poi già morono a power, se no, se no già stanno volendo ora. L'ho capito da copitato dici che lo ce l'ho utilizzato, qualcuno mi sta prendendo. Mi voglio che unomaya giro ideia di spazio contento di fare la sperimentare, va man favour, mi lascia pensare il pall mechanical, c'è la rispondere della scuola, se sorella era dopo, c'è molto dü dati. C uo, no, ve lì, io, vi faccio scuola Labour, farè che uno stadio non vuole permane a 2,44. eh ma compadre non è piscchi chiede di 44 compadre chiede compadre solamente a faccia chiave compadre ci sfiga l'entatata taglia subito so, piscchi compadre non piscano meno fidati, chiede ogni scannaggio ci fidano compadre ci possono riscattare non è tutto veda mi è fatto ho fatto ho fatto io voglio fare io ho fatto ci sono tipo 12 e 40 io non l'ho in 145 io ho visto 149 ho fatto ho fatto il 9 ho visto il 43 ho fatto ho fatto se lo farò ho fatto io ci credo non ci credo, vanno a fare il più conflitto, se ne avendo gli occhi, come sta uscendo, è resistente, vanno, è resistente su un paletto, il campo comincia nuova a Palani, vanno a fare queste cose, hai trovato Palani di... Sì, che si fanno la secciatina, sì, non male, compara, la secciatina già con 45 va bene, noi all'inizio, quando pescavamo con Marco, quando andammo primo anno, con 60 pescavamo, ma non andava di mano, sabatone, con 60 pescavamo, poi i primi anni erano diversi, non fare riuscire, non fare riuscire, non puoi andare a riuscire a fare il pescavamo, noi siamo a Manten Mosin e a Manten Mosin, e perché era sbagliato vuole essere? No, dove ero sbagliato? Quest'anno secondo me, io lo ci sarò, che era fatto così, non cresce, Non ho capito, ma sai se cala o calione o calione se si cala o calione se si cala? Ma sicuramente calerà se passiato se ne fa, una volta che se la fa non pare, se l'aveva fatto ogni anno la fine ma non solo, e dopo che tu li calavano, boh, non pare io due anni calavano e se non mi culo vissi, sicuramente avevano calito in terra, io calavo e quando se ne andava a nascere quel fuori e mangiavo l'oltre.